aspetta ok usa il portale dove andiamo quindi quale regno e sì perché se no ci facciamo un botto di cosi alieni non sappiamo come cazzo andare avanti per trovare anche il modo per fare il mango 3 che cos'è che c'era da fare di uccidi quattro cosi palla di tre cosi palla 4 che cazzo è 4 appiccicati siamo cazzo fai a farlo da anche il trofeo da fare per quella cosa lì dove vai tu e anche l'ultima ho fatto devo pulire il coso lì ma magari per mangiare la pizza lo pulisco ma c'è cado no dove è ma dove cazzo stanno vediamo se c'è qualcosa nel vicino a noi faccio il giratore apri un attimo se c'è qualcosa da scannerizzare fungissimo i resti induce alla follia meno male che si è istinti no ho fatto lo strunzò ma perché oddio perché si chiama così amo come sei scesa giù e quello cos'è sto coso ha capito ho fermo faccio sempre sbaglio strano che è sto coso che è sto coso occhi grandi grandi venti grandi sogni tutto intorno a te cosa devi fare ma perché cosa devi fare ha capito il gioco è fatto per quello se che devi sei che sei che è soltanto per un trofeo c'è scritto che insieme questo vomita non caga e quindi che mangio a fa scusa ma bello che non si attaccano io ho sparato i suoi amici salve degli occhi verdi però che qua e qua c'è un altro aspetta intanto esaminiamo la torre atto questa sorviglianza davvero notevole tra i fondi di alimentazione cosa potrebbe nascondere all'interno ma ma non mi piace sto suono e c'è un problema qua ci sono un botto di quelli che tu vai e fai e quanti ce ne sono qua a parte che non ci sono c'è il ciboliero è dall'altra parte praticamente ma è in cima a una torre no vabbè ma qua dove si va ma questo cosa cazzo serve sto ma fa il giro per cosa c'è qualche trofeo c'è qualcosa di particolare che serve fare facendo questa cosa qua pure sopra l1 vai e dove va mi porta qua e mi fa pure male aspetta che qua c'è qualcosa altro coso che salti perché c'è un coso che salti ah ok va bene eh già e non solo bisogna andare di là bisogna andare di là bisogna andare di là ma bisogna prendere questo per andare dall'altra parte la torre penso col teletrasporto perché penso che là sopra ci sia un teletrasporto lì siamo di là c'è un teletrasporto lì là sopra il problema è come cazzo ci vai quale di là si accorla in fondo penso non lo so non si non so sto mondo sto pianeta è strano eh di là c'è un altro coso quindi che facciamo andiamo seguiamo l'obiettivo o perché no dove da destra si che ci arriviamo da destra ma la torre è quale quella sulla destra o quella sulla sinistra si che ci arriviamo si guarda aspetta yuhuu fatto sulla piattaforma della torre oddio che bello quando il personaggio usa quel coso lì no dovevi sì no dovevi fare dove c'è un coso lì da prenderci ho questo c'è un coso con il paio L1 e lui fa tipo come Tazan si attacca alla liana del coso lo vedi il coso sopra? ma no ma che ramo ma che ma che sta ah chi l'aveva vista L1 fai che lo segna in non in piccolo in medio piccolo L1 eh dove entrare là dentro più vado avanti più sembra di giocare a subnautica con questi cosi si mi sa che a mattino io l'ho detto c'è sto gioco qua si può giocare in due ecco là è infatti di esaminare le fonti di alimentazione malfunzionanti aspetta ehm che cazzo è qua allora ah è quello che sta fatto in altra parte si devo andare fino in cima ah no aspetta aspetta c'è qualcosa che non va perché c'è questo c'è la griglia che è per pensare ma noi non ce l'abbiamo il coso per pensare e poi io provo a fare una cosa ok ricarico a posto uso la carico porca troia si è spostato ah è qua sopra c'è un coso ma se non gira magari questo meccanismo non si sbloccherà mai no ma mi sa che stiamo salendo per un cazzo amore perché esaminatore e fare fonti eliminazioni di coso ma non so dove è l'altra come potrebbe essere quella 449 eh eh infatti vedi vedi localizzo e estrae il campione potenziatore di pestata devo estrarre gli elementi richiesti per poter utilizzare il mio nuovo progredito so dove si trova ora devo solo capire come arrivarci e sopravvivere al viaggio ovviamente e c'è anche panico statico mi sa si si vedi c'è anche panico statico adesso possiamo fare pure quello ah niente andiamo lì a 449 a 449 a modo dobbiamo andare là eh dov'è che fai il coso non c'è nulla ma quale quell'altra a 122 a me non mi da nulla 122 ancora ho capito ma qual è l'altra tua allora c'è una cosa tu fai uno io faccio l'altro e tu fai una cosa io faccio l'altro vado a prendere il potenziatore di cose tu esami non so neanche dove sei ah questa eh ho capito eh tu vai via io vado di là o vuoi che vengo pure io sai che alla fine a cambiare di via e vai cambiare di via ah ok code come cazzo ci arrivo io di là allora eh devo tornare indietro ma va bene c'è anche un credo sport lì buono 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 te lo invito volentieri sblocco altre cose siamo è una cop se ci dividiamo in compiti è meglio è una cop online però non è di desio perché cop non conviene e allora e niente il mio cane il mio il mio cane si è ferito è arrivata è arrivata la pizza ah 10 minuti esatti aspetta che eh sintomo